Ah, sei il Saiyan! Ormai per te è finita, Black. Non ti permetterò di annientare l'umanità. Ma gli umani sono inutili. Dovrebbero essere tutti eliminati. Chi sei per dire questo? Io guardo da una prospettiva molto diversa dalla tua. Ho osservato il mondo, ho guardato l'universo, ho contemplato la perfezione e la meraviglia della creazione. E infine, ho capito che la razza umana deve sparire. Nella perfezione dell'universo, gli umani sono l'unica imperfezione, l'unico errore. Io voglio che questo mondo, questo universo, siano perfetti. Io voglio correggere l'errore. Sterminare l'umanità è la mia grande missione. Tu sei pazzo! È una missione ignobile, io la fermerò! Hai ancora così tanto da imparare. Dovresti saperlo che un attacco in preda alla rabbia non è mai vincente. Grazie!